Una dotazione di 25 milioni di euro annui per i prossimi tre anni, per l'istituzione di un credito d'imposta del 50% per la produzione e l'autoconsumo di energie rinnovabili. È la proposta della Confederazione Nazionale dell'Artigianato Sardegna, contenuta in una lettera indirizzata al presidente della regione Cristian Solinas e all'assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Giuseppe Fasolino. Tra il 2021 e il 2022 quasi un'impresa sarda su due ha ridotto significativamente gli utili aziendali a causa dell'aumento dei costi energetici. In Sardegna, oltre 700 aziende ad alto contenuto energetico rischiano di dover chiudere i battenti a causa di rincari. Con loro rischiano la perità del posto di lavoro oltre 5.000 addetti. Da qui la proposta della CNA, istituire un credito d'imposta del 50% per le spese sostenute dalle imprese per investimenti di impianti fotovoltaici da installare sui capannoni industriali e artigianali. Una spesa pubblica di circa 72 milioni di euro consentirebbe a 1.500 imprese di dimensionare sul tetto del proprio capannone un impianto fotovoltaico di 48 kW. Questo abbatterebbe il consumo per ogni azienda del 22% e incrementerebbe il 7,5% la produzione complessiva da fotovoltaico in tutta la regione. In questo modo il risparmio energetico per il settore manifatturiero regionale sarebbe del 4,5%. Una politica di sostegno allo sviluppo dei piccoli impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, hanno dichiarato Luigi Tomasi e Francesco Porco, rispettivamente presidente e segretario regionale della CNA, è una delle opzioni più intelligenti ed efficaci per mitigare in maniera strutturale e nel medio-lungo periodo gli effetti prodotti dal caroenergia. L'eccezionale aumento dei costi energetici dovuto alla particolare congiuntura internazionale, infatti, sta mettendo a dura prova il bilancio di famiglie e imprese.